Benvenuti al meteo, è sempre l'alta pressione a determinare un tempo stabile e valori termici elevati e dalla prossima settimana fiammata africana ancora più intensa. Vediamo il dettaglio intanto di domenica 19 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo lo vedete si presenterà sgombro da nubi, nessuna precipitazione e prosegue la siccità che ormai si configura eccezionale, sicuramente record per il periodo. Temperature poi roventi, ben oltre la media stagionale, minime tra 16 e 22 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo tanto sole, cielo in prevalenza sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime sui 28-32 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui dominerà il sole, qualche nube di tipo alto ma innocua. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 33-34 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3.